il signor Andrea De Sabato è un onore essere qui questa sera tra la mia gente, tra la mia Lecco che meraviglia a un passo dal lago noi che abbiamo scampettato qui naturalmente questa sera non possiamo essere qui senza la musica e per la musica visto che siamo a Lecco abbiamo chiamato un'istituzione cintura nera di Pinzocchini Mr. DJ Dario Caterpilla Oltali 2013 qui a Lecco in piazza il momento della chiusura i dati verranno celebrati i momenti di rito della consegna la riconsegna delle chiavi alle istituzioni in rappresentanza del comune di Lecco vi salutiamo vi salutiamo naturalmente l'assessore Francesca Bonacina e l'assessore Ivano Donato e l'assessore e l'assessore Sì Il Carnavale Lechese è sempre stato fonte di straordinaria ispirazione Un trionfo della fantasia veramente Noi non so se si è capito siamo vestiti da sottaceti Ci mancava il barattolo ma vabbè quello Il mio problema Non si riuscì a trovare il barattolo Il Carnavale Il Carnavale Come ne sembra questo Carnavale di quest'anno? Il Carnavale Grazie Il Carnavale è davvero bellissimo Grazie a voi anche E la regina? Non vuole parlare con la regina? Almeno come vi chiamate, si può dire? Oppure per questa sera siete solo re e resi con me? Dai, nome... Veronica! Veronica, un applauso Veronica! Siamo pronti! Allora, cerco di assegnare queste chiavi agli assessori L'assessore Ivano Donato Assessore che cosa? Servizi sociali Servizi sociali invece? Istruzione Istruzione, no, grazie Mica assessorati così, tanto penso Va bene, allora, siamo pronti per le cose di avere chiavi? Ave! Ave! Allora, diamo il microfono agli assessori Un saluto brevissimo perché è un peccato interrompere questo bar Vedi, questo già risposto succede No, un ringraziamento a LTM, la provincia E anche a tutti coloro che hanno oggi animato la sfidata facendo casi Lavoro che ha occupato per me, le associazioni, i gruppi e quanti altri Quindi un ringraziamento a loro E mi ringraziare di dire che il carnevale non è finito E quindi stasera godiamocelo tutto fino in fondo Avanti con le danze Ciao a tutti e un saluto dal comune di Lecco Ciao a tutti Ciao a tutti Va bene, consegna della chiave di Lecco A venuta Ciao a tutti 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 Ciao a tutti